il boschetto vuoi andare dove però va bene in quella rossa quindi al dove mi pinga dato ora ne ho tre smg no gente 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 tieni te la porta te la porta te la porta non ha vita bravo è sopra qua salgo sopra sul tetto da me l'ho craccato ma salire la sopra dalla ringhiera è sceso ok sono in fondo gli altri sono lontanissimi sarò rianimando e sta correndo faccio le granate 100 100 blu è preso che è morto fatto è morto madonna si che granata gli ho lanciato per quanto dove ho trovato si a 6 ne hai era lui pieno eccola uno è locato quasi è dentro altro altri team altro team no no un altro team da sopra si sopra fatto è ma sopra sono nascosto per venire va davanti davanti si ammazza naruto naruto fatto quasi moon night a sinistra moon night quasi è craccato quasi dietro il tronco bravo la spaccata l'albero fatto bravo beh 6 flash e poi le butti minchia questo c'è lmg dorata questo ma gli è servita molto orco a 2 da dove la albero a 48 non mi fa poco 41 41 lo pusho che non mi vede anch'io lo sto pusciando da destra 28 29 bravo ma io non sono molto d'accordo che questi non mi debbano entrare guarda che sono due comunque eh infatti non sto pusciando pusciando craccato uno pusho uno è entrato dentro la casa lì in fondo uno è dietro quest'albero sono splittati levato scudo a uno qui dentro bravo preso l'altro è saprò di noi saprò 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 detto salgo oh la bravo questo era assassin's creed non lo so c'è gente che fight a nord eh ma dobbiamo prendere la macchina hanno rimesso le metriette a 100 colpi ne ha 50 l'hanno nerfata ma la smettete di spararmi tutti di cerco l'ho ferito uno ma non mi esce lì non lo so perché 30 30 30 30 vabbè gli ho fatto una sequela di 30 che la metà basta uno quasi craccato dietro la buscia eh lo so il problema è aspetta prendo la macchina e arrivo da te vabbè pare che stai andando free safe eh perché non hanno vita sopra di me stai andando da solo però sono sopra di te ti sto aspettando si si non sto pushando vacci knockato uno è sopra è sopra l'altro ce l'ho mi scudo è dentro la casa eh ma non voglio rischiare aspetta ora lo push fatto pirla non volevo rischiare mi sono curato hai fatto bene dimmi che la macchina è integra dimmi che c'hai cose verdi o l'altro va cose verdi l'altro però qua c'è il falò ok ottimo quanto fa di danno mi sa che fa 36 zi se non mi ricordo male non ce n'è uno davanti eh mi sto curando vabbè zi ok è un bot no spero per lui lo sia dalla casa in fondo li vedo li vedo si cinquantino a uno blu 32 blu craccato uno 32 all'altro lo push devo continuare un po' gli coglioni bravo io ho tirato giù l'albero 38 blu 34 bravo craccato si lo push anch'io fatto apposito let's go raga se mi mettete in fin di vita dall'altra parte della mappa però poi non sapetevi se mi tiro mi shield vai davanti a me 39 39 39 davanti a te fatto va bene stacco scudoni io sono full di tutto mi servono solo due scudini e sono a posto eh no io non scudono e lo posso staccare quanti kiri abbiamo? 15 eh no possiamo fare massimo 19 oh 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 si lanciano da noi da noi guarda sopra 30 blu 30 blu 30 90 blu io abbiamo fatto ma perché si è lanciato? ma che ne so io 30 30 all'altro 30 di nuovo 30 30 scudato mamma mia l'altro è dietro la serata questo va tira uno scudone si sta curando anche lui c'ha il... si 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 il chug quindi non pushiamo 17 blu 30 45 sta rompendo le protezioni io gli ho spaccato lo scudo 30 30 30 30 45 scudato 30 bianco la push eh non posso pusharlo come faccio a pusharlo? eh non posso pusharlo non mi fa fare... non posso fare Skyrim oh no niente Skyrim? eh no eh ma come ci si va Skyrim? no non si può non si può no non si può sta volando via 31 30 30 30 30 30 bianco 230 bianco eh lo so il problema è che non lo vedo più la la oh team a destra team a destra fratte va bene nascosto nelle fratte quindi occhio qua da qualche parte e l'altro team è di qua ok 30 30 scudato di nuovo 30 30 blu eh 30 bianco pure io ho fatto 30 eh ma sicuro tanto beh andiamoci da quello delle fratte via via no esatto quelli del cespuglio ci fregano 31 blu non so perché mi ha lanciato gli scudini noccato ah non l'ho lanciato al suo amico dietro il coto bravo perfetto mi curo mi curo fast quelli della fratte ci hanno sparato qua hai tutte le cure hai le splash no zi abbiamo 17 kill veramente? no non me lo dire te l'ho detto te l'ho detto facciamo 19 che palle non ci credo ma che sfiga c'è spuglio davanti l'ho distrutto craccato uno eh zi il problema è che c'è spuglio c'è spuglio e lanciarazzi eh ma non dove ando? eh no non hai capito non potevo fare un pizzo perchè ero senza niente dietro l'albero adesso mi dici com'è? me ne sono dovuto andare da lanciarazzi questo è un problema eh lo so ti lanciano pure le cose eh lo so eh lo so li aveva tirata pure male non puoi spaccargli la roba perchè non gli posso spaccare la roba? eh non gli puoi spaccare non l'albero ma il tuo spuglio c'è uno nel c'è spuglio e uno dietro l'albero eh lo so lo so nel c'è spuglio ok adesso uno v uno non farlo curare per niente al mondo spamma dentro quel cazzo di roba entaci col pompa te lo fai uno v uno nooo cioè lui c'aveva il c'è spuglio più il cazzo di albero di nuovo mamma mia aaaaaaaaaa cavolo eh vabbè ciao